Cari amici, buonasera, bentrovati sul mio canale YouTube. Come vi ho promesso nell'ultimo video pubblicato, quello cioè con un confronto visivo fra penni moderni e con una netta vittoria della Pelican 251, però questa sera vi parlerò di Caveco. Caveco è un brand che a me piace tantissimo, un brand che ha un approccio giovane, fresco, con un bel marketing e che sta investendo parecchio sulla fidelizzazione del cliente, proponendo degli strumenti di scrittura a prezzi veramente accessibili, validi, simpatici, così come anche prodotti un po' più ricercati. Ammetto che di aver conosciuto il brand un paio di anni fa mi ha colpito molto la Caveco Sport per il suo prezzo e mi piace parecchio anche il taglio dell'azienda che per modelli di fascia superiore alla Classic dà anche la possibilità di scambiare il pennino, quindi è sufficiente comprare un corpo penna e poi essere liberi di investire qualche soldino su un pennino di gradazione differente per adoperarlo secondo del caso. detto questo, la simpatia e il packaging ma anche nell'insieme la bontà costruttiva di queste penne che montano tendenzialmente pennini prodotti dalla Boc che sono dei pennini validissimi ho avuto modo di scoprire che in realtà è un marchio tutt'altro che giovane anzi è un marchio che ha contribuito in modo importante alla storia del suo paese cioè la Germania e che ha attraversato e sta attraversando quasi due secoli di produttività con purtroppo risultati fortemente altalenanti in quanto il suo asset tendenzialmente conservatore e le grandi sfide proposte dal mercato soprattutto negli anni 20 e nel dopoguerra e poi con la mannaia calata sui produttori di pene stilografiche dalla rivoluzione causata dall'introduzione del strumento della penna a sfera ha condizionato in modo parecchio negativo la stabilità di questo marchio portandolo a vari passaggi di mano al fallimento e poi al suo recupero alla fine e a metà degli anni 90 nel 95 per essere precisi siamo contenti onestamente sono molto contento di aver avuto la possibilità di incontrare e di imbattermi in questo brand perché vi ripeto a me piace tantissimo ed è le loro penne i loro prodotti sono le mie fide compagne di lavoro da diverso tempo sono nella mia cassettiere in ufficio mi fanno compagnia e danno colore alla mia quotidianità con semplicità con anche una dose di piacevolezza e di stile anche oserei dire certamente è difficile riscontrare della banalità quantomeno da un punto di vista del prodotto della sua estetica della sua simpatia della sua portabilità che questi sono oggi come ieri dei cavalli di battaglia quantomeno in modo particolare del modello sport ma adesso andiamo insieme a compiere questo breve viaggio nel tempo ne vale la pena vi ripeto Caveco non è stata un'azienda che ha investito in grosse innovazioni o che ha stupito il mercato sparigliandolo come hanno fatto altri brand che hanno calato un asso dopo l'altro lasciando a bocca aperta il loro pubblico i loro clienti con innovazioni design eccetera eccetera Caveco ha fatto la sua parte ha scelto una sua linea e l'ha portata avanti ed è arrivata come vi dicevo fortunatamente sono arrivate a noi tutto nasce inizia nel lontano 1883 Caveco che all'epoca si chiamava Hildeberg Federalter Fabrik cioè fabbrica di pene silografica di Hildeberg inizialmente forse i primissimi anni funge un po' da importatore in Germania di cannucce per pennini prodotte in Inghilterra e di pennini calligrafici prodotti dalla Morton & Co a New York partnership quella con la Morton & Co di New York che nel tempo vedrà poi un'acquisizione di questo produttore di pennini da parte di Caveco e il trasferimento di tutte le attrezzature necessarie in Germania in modo da iniziare la produzione in house del pennino stilografico la prima penna stilografica inizieremo a vederla nel 1892 con l'introduzione delle prime penne a serbatoio da parte dell'azienda tedesca che erano di tipo safeti cioè rientranti e quindi con caricamento a contagocce realizzati in ebanite ed equipaggiate dai pennini della summenzionata Morton & Co nel 1899 Henrik Koch e Rudolf Weber acquisiscono l'azienda e la chiamano Hildeberg Federalter Fabrik Koch Weber & Co iniziando a produrre i loro strumenti di scrittura sotto il marchio Caveco nel 1911 esce il primo catalogo dell'azienda dove compaiono la Percheo la Lilliput e la Omega che sono dei modelli che ancora oggi ritroviamo e hanno contribuito a fare la storia del brand facendo da collante per appunto come vi dicevo oltre un secolo di produzione stilografica nel 1912 Caveco introduce il modello 616 che è il precursore della sport modello di penna safetine ebanite pensato per gli sportivi quindi un po' più piccolo un po' più portatile gli anni venti rappresenteranno per Caveco l'apice della loro attività produttiva il loro punto di arrivo sul podio dei produttori tedeschi ma anche un periodo profondamente movimentato e turbato da che cosa? dall'arrivo di agguerriti competitor come per esempio Montblanc che inizieranno a destabilizzare il mercato di Caveco portando via fette di clientela purtroppo questo determinerà un calo nelle vendite che nel 26 porterà l'azienda ad essere acquisita dalla KGW azienda che sempre nello stesso anno prima dell'acquisizione in verità aveva stabilmente deciso di chiamarsi Caveco sotto l'egida della KGW la Caveco introduce la Colleg la Special la Dia e nel 1935 la Sport tutte queste penne erano realizzate in celluloide avevano a disposizione una finestra di ispezione dell'inchiostro ed erano tutte equipaggiate da un sistema di caricamento a pistone sistema di caricamento a pistone che come avevamo già detto fu un'altra tedesca a usare come come suo punto di innovazione e distintivo c'è la Pelican con la guerra con la guerra degli anni 40 con la seconda guerra mondiale la Caveco quasi quasi tende a scomparire dal mercato e spenti i fuochi di questo tragico conflitto ricompare tra le ceneri portata in spalla per così dire da due modelli i suoi celebri da tre modelli suoi celebri scusatemi che sono state la Elite la Dia e la Sport questi modelli la traghetteranno con un buon successo di pubblico fino agli anni 60 che nuovamente rappresenteranno come vi avevo già detto poc'anzi una svolta in negativo per un brand che comunque insomma dimostrava le sue fragilità pertanto quando la penna sfera spariglia le carte sul tavolino scombussola il campo da gioco Caveco ahimè rientra fra quelli che ne buscano di più avviandola verso un lento declino che porterà poi alla bancarotta nel 1981 nonostante vari tentativi di mettere sul mercato dei prodotti che potessero dare continuità a questo brand nel 1995 la H&M rileva il marchio e lo proietta nel nuovo millennio portandolo diretto diritto proprio nelle nostre mani come vi dicevo io personalmente sono contento perché perché le piccole Caveco soprattutto la Student la Lilliput la 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 eccezionali non solo per gli amatori ma anche che vogliono distinguersi con dei prodotti un po' particolari mi viene a pensare tutta la serie fire blue che sono splendide ma anche soprattutto per coloro che vogliono approcciarsi alla scrittura manuale con la penna stilografica e che magari non hanno a disposizione un budget particolarmente ampio e vogliono iniziare però a provare sono strumenti eccezionali che vanno benissimo scrivono molto bene li vedremo impareremo a conoscerli perché ogni tanto ve ne farò vedere uno mi direte a me sempre la solita penna no no perché essendo industriale la produzione del pennino non è detto che scrivano uguali io nella mia collezione fate pochissime eccezioni forse giusto una ho tutti i pennini di taglia fine di gradazione fine e non ce n'è uno che scrive uguale all'altro li farò vedere ve li farò conoscere sarà un pretesto anche per mettere in pista gli inchiostri che uso io a lavoro così conoscerete la mia squadra la mia punta di diamante per la quotidianità professionale penne che hanno attratto devo ammettere anche la simpatia dei miei colleghi incuriosendoli da una parte per il costo veramente accessibile e dall'altra per per la simpatia la praticità d'uso che le contraddistinguono quindi ciancio alle bande nel prossimo video vi farò vedere una caveco quindi stay tuned attivate la campanella iscrivetevi al canale di qua o di là dove vi pare a voi lasciate un commento se volete come sempre viva la libertà e buona scrittura a tutti alla prossima